L'acquedotto è diventato invece, non invece, in aggiunta, un grande momento di turismo. Oggi ci sono, come sapete, i percorsi di trekking sull'acquedotto, di tutta la Val di Saga, sono assolutamente di altissimo valore. Per noi questa è una cosa importantissima e noi infatti stiamo investendo per dare molta pubblicità alla cosa. Ci sono già escursionisti che vengono anche a di fuori di Genova per fare i percorsi dell'acquedotto della Val di Saga. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente tenere conto perché ci serve per far conoscere, ci serve per aiutare anche il turismo e è uno dei benefici che abbiamo noi qui in città. Noi abbiamo un clima per cui a gennaio, a febbraio si può fare escursionismo del genere. Nelle tre arti lombarde, con tutto il mio rispetto, non si può fare e noi invece qui lo possiamo fare. Quindi, insomma, c'è tantissimo. Vedete, un acquedotto può darci tanto la nostra storia e può darci tanto anche la nostra possibilità di fare in questo modo che una città che sia veramente un posto dove si vive bene, dove l'altra qualità diventa veramente il passaporto di Luigi.